Sono a dichiarare una verticale, vediamo infatti che era una piazzata prima in mezzo del sottretto, che consideriamo utile questa figura, una verticale in mezzo adderezzata, un'opera, un mancari che è la serra di prima, questa prima volta, anzi, questa prima è sì, dal 2007, quando abbiamo cominciato a esire il pari...